Una riunione che abbiamo fortemente voluto per incontrare le società sportive del territorio, le realtà, perché riteniamo necessario ricucire i rapporti, riteniamo necessario cercare di intraprendere un cammino comune, ascoltare le esigenze di tutti e capire come possiamo intervenire per supportare le esigenze delle varie realtà territoriali. È un primo punto di partenza, dove intendo chiaramente raccogliere quanti più spunti possibili, prendere i contatti e cercare di capire come possiamo lavorare insieme, intanto verso il percorso di riapertura delle strutture sportive cittadine e poi, insomma, per capire come fare per riportare a Trapa in una serie di gare, eventi, iniziative sportive che devono assolutamente tornare ad essere presenti nel nostro territorio. È un punto di partenza, il cammino è molto lungo, ma sono assolutamente certo che tutti insieme, proprio sportivamente parlando, riusciremo a raggiungere gli obiettivi prefissati. Si va quindi verso questa consulta dello sport? Di che cosa si tratta? Sì, diciamo che a questo punto l'obiettivo finale è quello di costituire una consulta dello sport vero e proprio, un ente quindi che possa in qualche modo essere di supporto dall'amministrazione comunale, un ente consultivo composto da rappresentanti delle varie realtà sportive del territorio e non solo, affinché possa essere un dialogo continuo e costante tra amministrazione e realtà sportive per realizzare eventi, iniziative, ma soprattutto per vivere insieme tutte quelle che sono le iniziative che possono svilupparsi sul territorio, affinché non siano solo degli eventi lanciati dall'amministrazione, ma siano delle attività che si possono svolgere di comune accordo con le realtà sportive del territorio.